Buongiorno signora Nedved, all'inizio soprattutto vorremmo ringraziarla per l'invito, è veramente un grandissimo onore per noi poter incontrarla personalmente e fare questa piccola chiacchierata e in seguito le nostre più sentite congratulazioni per essere diventato il vicepresidente della Juventus. Ci siamo qua perché in Polonia, grazie dell'iniziativa dei tifosi juventini polacchi del sito juvepoland.com e della casa editrice SQN, è uscita la versione polacca della sua autobiografia, La mia vita normale. Allora la prima domanda è, dopo una carriera antagonistica così stupenda e poi dopo diventare il vicepresidente della Juventus, lei è ancora convinto che la sua vita sia così normale? No, soprattutto grazie a voi, essere venuti qua, ci darei invito e ovviamente anche vi ringrazio per la traduzione del mio libro, il nostro paese è come Polonia, io ci tengo molto, siete i nostri vicini perciò sono molto contento. La vita, sì, con le tante sorprese, nel senso che ho giocato qua per questa maglia che ho ritenuto un grandissimo onore perché è una maglia molto bella, poter giocare per questa squadra da tantissime emozioni. Poi ovviamente rimanendo qua nella società poter aiutare, poter lavorare ancora per me significa molto e sono molto onorato ovviamente perché responsabilizzato molto un passo che ha fatto presidente a farmi diventare vicepresidente è una cosa molto grande, ne mi rendo conto. Allora oggi la normalità come la caratteristica personale sia nel mondo del calcio sia in generale sembra di essere sempre più rara, sempre i giovani calciatori risultano ad essere grandi talenti poi diventano subito famosi, secondo lei un sviluppo così veloce della carriera di un giovane calciatore sia più un'opportunità o più un pericolo, vuol dire una prova pesante del carattere di un giovane ragazzo? Per me il sviluppo di un ragazzo della sua carriera veloce non è un problema, basta che si rimane nella normalità, stiamo tornando nelle cose che magari ho raccontato sul libro, bisogna rimanere nella normalità, vivere le cose quotidiane senza eccessi, senza montarsi la testa, senza pensare di arrivare in tempo al mondo e fare le cose sbagliate. Normalità credo che per questi ragazzi se riescono a farla diventano dei campioni. Lei il suo libro lo aveva scritto dopo aver finito la sua carriera, sono già passati sei anni da quando Pavel Nedved ha smesso di giocare, come è passato quello periodo, come lei si trova fuori dal campo ma sempre facendo il lavoro strettamente legato al calcio? Infatti io sono rimasto diciamo un anno fermo non facendo niente, riposando, recuperando le energie che ho speso durante la mia carriera, poi è arrivato il presidente che mi ha offerto l'opportunità di poter aiutarlo nella società e io non mi sono sentito dire di no perché è bello, ovviamente è bello di poter rimanere nel mondo del calcio e dare qualche esperienza ai ragazzi che stanno crescendo nel modo mio, nel senso poter aiutarli, quello che magari uno faceva che lo ha portato ad ottenere certi risultati. Perciò è molto bello, anche se devo dire che inizialmente i primi anni erano molto difficili anche per me perché non è facile di chiudere una carriera sul campo e passare subito a fare un dirigente, credo che sia molto difficile, uno deve partire da zero e imparare nuove cose e piano piano fare la carriera, la strada anche fuori dal campo. Io spero, mi sto migliorando, di riuscirci piano piano e di capire anche le cose che servono fuori dal campo. Davanti agli nostri occhi le grandi leggende del calcio appendono le scarpe al chiodo, abbiamo visto pure la fine della carriera sua. Siamo curiosi come lei valuta il percorso della sua carriera? Percorso calcistico? Sì, percorso calcistico. Percorso calcistico credo sia stato un sogno che ho potuto vivere. Volevo giocare calcio, volevo giocare per miglior club in Repubblica Ceca, poi volevo giocare per la mia nazionale che erano dei sogni, sogni da bambino. Alla fine ci sono riuscito ad andare anche all'estero, giocare per uno dei club più forti del mondo e ottenere risultati insieme ai miei compagni qui. Perciò io lo definirei un sogno, un sogno di un ragazzo che è partito da una cittadina in Repubblica Ceca e ha potuto fare, chiamiamolo lavoro, ma dall'altra parte è un bellissimo divertimento per me che ho potuto fare. Ma se avesse potuto tornare indietro nel tempo, come al film Ritorna al futuro, che cosa avrebbe detto a piccolo Pavel Nedved che stava per affrontare la realtà calcistica? Di viverla esattamente come ho vissuto io, senza pensarci troppo e scendere sul campo a fare quello che ti piace di più. Di calciare in porta, di allenarsi ogni giorno, di stare insieme ai tuoi compagni, di divertirsi. Solamente questo credo che dovrebbero avere in testa piccoli calciatori che crescono adesso. È l'unica strada da perseguire e da poter migliorare. Io dico che più si sta sul campo, più si impara, più si migliora. Perciò è solo il lavoro che ti porta ai risultati. Lei da sempre aveva gli ottimi rapporti con i tifosi, lo sottolineava anche qualche volta nel suo libro. Siamo curiosi quando lei sente i cori all'Uventus Stadium, dei tifosi che esultano il suo nome, che cantano Pavel Nedved sotto la curva. Siamo curiosi se lei vive sempre le stesse emozioni oppure forse è cambiato qualcosa? Sì, devo dire che è sempre veramente emozionante. Dopo sei anni quando uno non gioca, essere chiamato sempre sotto la curva fa un certo effetto e fa molto piacere. Ovviamente io sono venuto sempre dai tifosi molto volentieri perché io ritengo calcio uno sport che ha bisogno dei tifosi, che la gente venga allo stadio, che si giochi per loro. Questo secondo me è un obbligo di nostro sport a coccolarsi tutti i tifosi. Credo che è molto bello questo. La versione polacca della sua autobiografia è stata realizzata soprattutto dai tifosi polacchi, giuventini del sito juvepolant.com, che avevano fatto la traduzione e poi collaborando con la casa editrice l'hanno pubblicata. Che cosa lei ne pensa che proprio grazie dei suoi tifosi questo libro è uscito in Polonia? Bello, anzi bellissimo perché devo dire che l'iniziativa dei tifosi vuol dire che ci tengono a uno magari poter far vedere all'altro un racconto di una storia di un ragazzo come me. Veramente mi fa molto molto piacere, molto onore e come dicevi prima io ho avuto sempre un rapporto molto speciale con i tifosi perché credo che è per loro che dobbiamo fare di più e dobbiamo fare tutto per fargli la mia off-star. Poco tempo fa durante la partita amichevole David Beckham è stato sostituito dal suo figlio. Anche lei faceva sempre, forse non sempre, ma ogni tanto i riferimenti alla sua famiglia nella sua autobiografia. Siamo allora curiosi se si può immaginare se stesso in una situazione di genere, cioè a lei piacerebbe che il suo figlio diventasse o calciatore o altro sportivo e che il mondo si godesse di un nuovo Pavel Nedved? Dobbiamo trovare dall'altra parte, credo che mio figlio non farà calciatore ma io sono contento lo stesso. Credo che io devo far diventare mio figlio un bravo uomo, un bravo ragazzo che tutti apprezzino per come è, non perché sia un calciatore. Però devo dire che è stato molto bello, per esempio per David Beckham sicuramente poter essere sostituito da tuo figlio. Secondo me è stata per lui una grandissima emozione, questo è sicuro. Mio figlio gioca con me adesso ogni giovedì insieme a me con il nostro Presidente e già lì sono molto contento che possiamo starci insieme. Perciò sono magari due cose un po' differenti ma come piacere, come bellezza è uguale. Se dovesse aggiungere un capitolo nel suo libro di che cosa scriverebbe? Non lo so, pensavo di poter mettere tutto quello che era importante, che volevo magari raccontare. Io credo che sempre si dimentica qualcosa ma io credo che nel complesso ho cercato di far capire alla gente come sono come persona. Perché magari ti conoscono solo come calciatore ma credo che è bello che possono sapere qualcosina in più nella tua vita privata, come sei stato e come sei cresciuto. Questo mi dà tanta soddisfazione. Allora adesso una domanda da Pollacco al vicino della Repubblica Ceca. Qual è la sua birra preferita? La birra ovviamente che abbiamo qua e qui da noi è Pilsner Urkwell che è la nostra birra ceca di Pilsen. Sappiamo che le nostre birre dell'est sono veramente buone. Ma lei è mai stato in Polonia? Ha conosciuto qualsiasi Pollacco tranne il papa Giovanni Paolo II? No, questo. Devo dire che sono stato in Polonia ovviamente. Sono stato per gli europei anche se non ho giocato più. Però questo personaggio, il papa Paolo II, era un'emozione particolare per me. Uno dei più grandi uomini che io ho potuto incontrare. Perciò è bello. Ho potuto anche raccontarlo sul libro. Perciò è stata veramente emozione. Dopo nascita dei miei figli più grande della mia vita. Quale autobiografia calcistica lei leggerebbe più volontieri? Oppure, anzi, lei ha già un suo libro preferito di genere? Diciamo che non è uscita ancora. Non lo so. Vorrei vedere l'autobiografia di Lionel Messi perché ritengo che vincere quattro palloni, forse, cinque palloni d'oro è una cosa che non riesco ancora bene a capire come ha potuto fare. Sarebbe molto interessante di poter leggere il suo libro. Allora, grazie mille per l'incontro. È stato un grandissimo piacere. Le mandiamo tantissimi saluti dai tifosi gioventini polacchi del sito Juve Polant.com e della casa editrice Esquen. E in bocca al lupo per la sua nuova carica. Grazie mille a voi. Grazie. Grazie mille. Grazie mille.